Non ci saranno riti alternativi. Il 39enne Valerio Caiola risponderà all'accusa di tentato omicidio in settimana davanti al collegio penale del Tribunale. Sparò lo scorso anno contro un'auto in una zona rurale tra le contrade Bulala e Migniechi. Secondo i PM della Procura voleva uccidere i rivali con i quali aveva già avuto diversi dissidi, pare per ragioni di confine. Ci sono altri procedimenti in essere. I PM hanno chiesto ottenuto il giudizio immediato. I difensori del 39enne, attualmente detenuto, non hanno optato per gli alternativi. Intendono chiarire in dibattimento la posizione dell'imputato. L'attività d'indagine venne condotta dai polizzotti e il commissariato, che sentirono tutti coinvolti in questa vicenda. Ci furono verifiche per la ricerca dell'arma usata da Caiola. Spiegò di aver risposto a delle provocazioni per difendersi. I colpi si infransero contro la vettura. L'imputato è rappresentato agli avvocati Marco Granvillano e Filippo Spina, che appunto non hanno optato per riti alternativi.